La giovane fascista accompagna Elisa, figlia della lupa, a rendere omaggio al simulacro delle luce. La giovane fascista accompagna Elisa, figlia della lupa, a rendere omaggio al simulacro delle luce. Viva il luce! Viva l'Italia! Sì? Sì? Sì, eccellenza! Pronto? Pronto, sì, mi chiami Elisa. Va bene. O Dio che reggi i popoli, salva la nostra gente, salvo chi in te incrollabile la sua fortezza sente. Pronto? Pronto, pronto. Servo, signore il luce, gloria di te è levato, per lui ti giunga il canto di giovinezza e figlia. Vengo! Questa bottiglietta contiene sei gocce di arcivernice. Silvano dice che ha paura. Ognuna di queste gocce può rendere vera qualsiasi immagine disegnata, può riportare in vita qualsiasi cosa morta. Se dovessi morire sotto le bombe, sappiate che lascio ad ognuno di voi una goccia. Ora però giurate che la sesta goccia la oserete per ridare vita al mio corpo, dopo che sarò morta. Maledetti! Non si vedono! Maledetti! Gli americani e gli inglesi uccidono la nostra gente. E perché? Perché c'è la guerra. Me lo chiedo. Cremen! Perché c'è la guerra? La guerra c'è perché ci sono gli uomini. Andiamo. Ferrarini e il sino. Ascari Faustino. Vinci Pierina. Non guardate. Entrate pure, bambini, che vedo i biscotti. Diorno, è vero che se ti prendono ti ammazzano? Permesso? È vero, ma chi vuoi che venga fin quassù? E perché ti ammazzano? È per via della mia religione. Sono ebreo. Come Gesù? Come Gesù? Ti mettono in croce? Eh no, figlia mia. Non ci tengo a salvare il mondo io. Cos'è la banderina? Che bufo. Che bufo. Cos'è la bandera? 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 Grazie a tutti